Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video di prima dalla redazione, scritti diretta dall'uomo misterioso, dall'Eddy Blue e dal vostro amico Bombe. Direi di iniziare con delle piccole notizie prima di ovviamente scatenare le notizie bomba. Allora, bella notizia piuttosto importante per chi gioca a Genshin Impact, che la marca di sviluppo, Mioio, ha annunciato l'arrivo dell'update 3.3 che sarà disponibile in dicembre per piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC, dispositivi OS e Android. Questo upgrade praticamente porta anche la traduzione in italiano. Sì, finalmente Genshin Impact sarà tradotto in italiano, come avete capito. Meramente buono come notizia per chi ovviamente giocava a questo titolo e come ben si sa l'ha tradotto solo in inglese, giapponese e cinese. Adesso avremo anche la traduzione finalmente in italiano. Poi, per quanto riguarda altre notizie, è stato annunciato da parte di Ubisoft, anno 1800 console edition, prevista per il 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X e S. Ricordiamo che comunque questo RTS gestionale, già disponibile su PC, adesso arriverà anche su console nel corso del 2023. Quindi manca ancora una data di uscita ufficiale, ma Ubisoft ha comunque annunciato questa edizione che, da quello che sembra, includerà tutti i DLC usciti fino a ora. Quindi si tratta di una collezione, di un'edizione bella completa. Adesso direi da passare alle notizie più accattivanti. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con Final Fantasy XVI, prodotto da Square Enix, gene action RPG, sviluppo interno ovviamente, lingua in italiano, inglese, giapponese e cinese, e previsto per il 2023-2024 come esclusiva PlayStation 5. Perché dico questo? Perché non c'è ancora una data di uscita ufficiale, purtroppo. Per il momento Square Enix non ha ancora, diciamo, annunciato la data di uscita effettiva. L'unica cosa che ha comunicato è che il gioco sta procedendo bene nello sviluppo. Ci sono ottimi risultati per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo del gioco. Quindi sembrerebbe essere in buone mani. Il thriller dimostra, appunto, alcune sequenze di gameplay avanzate, che fa vedere alcuni combattimenti, anche qualche invocazione. e per di più ci fa conoscere anche i personaggi che andremo a interagire durante la nostra avventura. Insomma, in collaborazione con GameStart, appena uscirà, porteremo in recessione e unboxing, ovviamente qui sul canale. Direi da passare al prossimo trailer. Ci vediamo tra poco. Reset Heavy 4 Remake, annunciato da Capcom, sviluppo interno, sulla loro action, lingua in italiano, sarà disponibile il 24 marzo 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, ES e PC. Durante l'evento di Reset Heavy Showcase di ottobre 2022, Capcom ha mostrato finalmente il primo videogameplay di Reset Heavy 4 Remake. Ovviamente il protagonista lo conosciamo tutti, Leon Kennedy, che si richerà in questa foresta misteriosa alla ricerca della figlia del presidente, se mi ricordo bene. E lì dovremo affrontare i vari orrori che ci saranno nel gioco. Da quello che possiamo vedere dal videogameplay, è stato fatto, almeno sembrerebbe, un ottimo lavoro per quanto riguarda il design dell'abitazione e dei personaggi. E noi vediamo loro in collaborazione con Game Start di portarvi la recessione e unboxing. E se riusciamo, ragazzi, porteremo anche la comparazione tra Reset Heavy 4, quello originale, con Reset Heavy 4 Remake. Incrociamo le dita, speriamo di riuscirci. E adesso direi da passare al prossimo video. Ecco il nuovissimo video di One Piece Odyssey, prodotto Badainanko, sviluppo interno, RPG a turni, lingua giapponese, inglese e italiano. Sarà disponibile il 12 gennaio 2023 su Prestige 4, Prestige 5, Xbox One, Xbox Series, XS e PC. Il nuovo video pubblicato da Badainanko ci mostra un po' l'abitazione alla basta, che è un regno che sorge in un'area in gran parte desertica, presso l'isola di Sandy. Qui la nostra ciuma di paglia, del cappello di paglia, scusate, dovrà praticamente risolvere un mistero. Ovviamente la trama del gioco non rispecchia molto fedelmente all'anime manga. È una trama completamente nuova, che comunque graficamente fedele all'anime e come tipologia di gameplay, come abbiamo detto prima, è un RPG a turni. Detto da tutti, assumine un po' a Dragon Quest, diciamo a livello tecnico, a livello di gameplay. Non vediamo l'ora di averlo tra le mani per portarvi la recensione a unboxing in collaborazione con GameStuff.it. Questo gioco potrebbe rivelarsi una bella sorpresa, almeno. Di solito io ho un ottimo, diciamo, intuito. Speriamo in bene. Visto che abbiamo parlato di RPG a turni, che sono, diciamo, di nicchia, ecco a voi un titolo che oltretutto abbiamo portato la recensione dalla remastre, il nuovissimo capitolo che riprende il finale del quarto dell'Angel of Heroes, Trails in Torre Vire. Prodotto NIS America, sviluppo Nihon Falcom, RPG a turni, lingua giapponese e inglese. Purtroppo non ci sarà l'italiano. Uscita estate 2023 per PlayStation 4, Nintendo Switch e per la prima volta anche su PlayStation 5. Ovviamente il gioco è atteso per l'estate 2023 sulle piattaforme appena annunciate. Come potete vedere dal video, si tratta praticamente di un RPG a turni molto accattivante per chi conosce come me la serie. Oltretutto sarà felice che noi porteremo la recensione a unboxing il prima possibile in collaborazione con GameStart.it perché questo gioco qua, noi, da quando l'abbiamo preso dai primi capitoli, soprattutto anche della remastre, questo qua non deve mancare alla nostra collezione. Bene, questa è la nostra video di prima. Spero che vi sia piaciuta con le novità che abbiamo incluso dentro e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, ditevi anche voi i vostri giochi che attendete di più e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per il supporto. Bye bye!